La speranza come sogno. Dobbiamo tornare a sognare, perché solo sognando alimentiamo la speranza o riscopriamo la speranza che abbiamo dentro o la scopriamo per la prima volta, ma scopriamo anche la speranza negli altri e scopriamo anche la speranza nel creato. Il creato stesso ci dice qual è il destino ultimo e definitivo dell'uomo, cioè l'amore, la fecondità, l'eternità. Ci dice che l'uomo è fine a se stesso, cioè l'uomo è limitato e finisce come realtà biologica. Ma noi speriamo e gemiamo assieme alla natura, alla creazione, come leggiamo nella scrittura, speriamo e gemiamo proprio in questo oltre, che a noi non è dato ancora essere svelato, ma semmai pregustiamo quest'oltre appunto quando siamo uomini e donne di speranza, quando sogniamo cieli nuovi e terra nuova, quando aiutiamo gli altri a ritrovare forza, coraggio, a rialzarsi, quando anche noi ci rialziamo, quando noi superiamo un problema che ci ha assillato per tanto tempo, ci sentiamo dei risorti, ci sentiamo dei rinati. Questa è la nuova creazione, o meglio è la ricreazione, questa ricreazione che è più importante della stessa creazione se pensiamo anche e soprattutto al mistero di Maria, così come spesso ci ha ricordato Papa Francesco. La speranza come sogno, sogno che la nostra vita va al di là, la nostra vita è proiettata in questa nuova creazione. E questa capacità di immaginare, e il Papa ci ha detto che uomini che hanno avuto la capacità di immaginare, di sognare, hanno portato al mondo progresso, scoperti scientifiche, perché se non avessero avuto questa capacità di sognare, non avrebbero avuto nemmeno la costanza, la caparbietà, la testardaggine di studiare, di sperimentare e poi di donare al mondo nuove scoperte, un progresso nuovo, un progresso che è umano, ma ahimè qualche volta non lo è. Mai perdere la capacità di sognare, di immaginare. Ed è a questi testimoni, a questi uomini, che noi dobbiamo pensare, che non necessariamente sono grandi uomini nel senso che sono ricordati della storia, no, ma ci sono tanti uomini e tante donne che hanno fatto grande la loro vita e la nostra vita, nella quotidianità, nel lavoro normale, semplice, nel nascondimento. Ma più si è nascosti e più si è grandi. La speranza è sognare. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!